La proroga del blocco delle attività sanitarie penalizza soprattutto gli anziani. L'Associazione Ospedalità Privata critica le decisioni della Regione. Nessuna condivisione da parte dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata del provvedimento della Regione sulla proroga del blocco delle attività sanitarie. Una decisione che vertici di Palazzo Daimmo, su indicazione del direttore generale dell'ASRE, Moreste e Florenzano, hanno ribadito nell'ordinanza numero 27 dei giorni scorsi. Fatte salve le prestazioni urgenti, quindi rinviate tutte le altre, comprese quelle ambulatoriali. Un provvedimento, ha sottolineato l'AIOP, che viaggia in direzione opposta rispetto a quelli adottati dalle regioni limitrofe che già da tempo hanno liberalizzato le attività sanitarie. Ad esempio, nella vicina campagna tutto il settore pubblico e privato si è riorganizzato per effettuare prestazioni assistenziali ed ambulatoriali nel rispetto delle norme di sicurezza, come la misurazione della temperatura corporea e il pre-triage. Intanto, gli operatori privati sono fermi da due mesi con evidenti danni per le singole aziende, che comunque hanno pur sempre costi fissi, dal personale alla manutenzione di tutte le apparecchiature fino alla gestione. Il comportamento dell'ASREM appare incomprensibile, soprattutto considerando che la curva epidemica tutto sommato è stabile. Non si giustifica, pertanto, un blocco in controtendenza rispetto al paese. Anche in Molise i cittadini hanno diritto di curarsi. Non si dimentichi che la popolazione regionale ha un'alta percentuale di anziani con patologie croniche bisognevoli di assistenza ospedaliera. Così facendo, a tutti questi cittadini viene negata l'assistenza. Grazie.